solo lui, solo lui svideogame youtube, svideogame youtube, svideogame un minuto via! dunque vediamo un po' se ce la caviamo stavolta a fare sto gioco dei blocchi dai riproviamo ancora allora dunque allora no, allora aspetta, com'è che si faceva? tac allora riproviamo dunque così lo dobbiamo bloccare a una certa altezza e quello scende giù così mamma mia non ci credo, non ci credo non ci credo che ce l'ho cavata no, no, no dai andiamo via subito veramente una vita, una vita su questo rompicapo no veramente poi era tutto lì era tutto lì da bloccare il blocco in una certa posizione no veramente dunque vediamo un po' allora qua cosa c'è da fare? eh ah control eh, ok no aspetta eh allora vediamo un po' cerchiamo cerchiamo di capire qualcosa che bisogna fare mi fa ah mi devo aggrappare ah no che deficiente devo saltare meglio devo saltare allora ebbene ebbene ragazzi lo sapete anche voi quando le cose sono nuove ecco e ora? beh no ahahah che cazzo come cavolo come cavolo devo fare? ah ringrazio tantissimo alle arca perché è veramente merito suo se mi sono districato dal da questa da quel lavoro lì dei blocchi ah forse mi devo oscillare boh come faccio a spostare sto cosa? eh oppure devo saltare di lì? boh eh no così torna giù ah si e devo beccare la corda al volo allora prima bisogna far così allora penso di aver capito non so quando devo fare le cose alla rovescia mi 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 casino ah già faccio fatica nooo io quando quando sale quando sale devo scendere prima che salga tutto ho fatto così io ho un tempo per ma non così aspetta allora aspettiamo ecco direi così no non abbastanza ragazzi ragazzi fate il tifo per me intanto mi suonano che devo andare a lavoro allora aspetta però almeno prima di andare a lavoro devo riuscire a concludere questo rompicapo ecco 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 allora lì c'è un coso da eh si perché sennò lì quello spinolino mi ammazzava bene adesso è tutto nuovo io quando sono in difficoltà guardo proprio dei piccoli pezzettini per aiutarmi e e infatti adesso qua è tutto nuovo e c'è da ridere c'è da capire cosa devo fare dunque e mi piace perché c'è quella freccetta lì che sembra che dica che debba andare da in che senso devo andare non capisco ah devo fare il contro quando arrivo sulla freccia sì eh ho schiacciato un altro tasto bravo furbo ma ma non capisco cosa devo fare bene no dai ma non è possibile sono sono già fermo di nuovo cosa cavolo bisogna fare lì ah ah vedi adesso me l'ha preso giusto sì 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 allora il contro ma c'è il coso che frigge lì andiamo bene eh eh vacco cane com'è difficile no ma è sempre più difficile ragazzi di limbo di limbo ah ah eh bisogna averci proprio eh bisogna averci proprio mamma mia i tempi i tempi ci vogliono proprio i tempi ma porco cavallo ma dove vado allora allora no 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 allora aspetta eh no no ragazzi calcoliamo bene i tempi via no allora aspettiamo che no aspettiamo un po' no no di poco secondo me adesso ho saltato male adesso ho saltato troppo adesso ho saltato troppo boh adesso non so neanche se ho saltato ma dai ho schiacciato il control sì 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 grande svideo me lo dico da solo dunque attenzione eh morcovalla zazzo no da qua no ancora da qua no c'ero quasi riuscito al primo colpo eh ok eeeh ma cosa vado avanti però sì sì eeeh boh forza eh no qua già so già che hai sbagliato no no ho fatto giusto sata allora attenzione eeeh salta 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 lì ok bene ragazzi tutto giusto scendiamo scendiamo piano devo oscillare no scendiamo piano 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 adesso destra andrò a destra piano pianino ecco non si è fatto male bravo bambino bravo bambino con gli occhi molto luminosi no vabbè ditelo dai programmatori di limbo siete perfidi ma vabbè dai bambino